A tutti voi il vostro lavoro di ammettente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, la parola al direttore della sede, responsabile di sede di Rimini, dottor Calalberto Pari, che ci illustrerà brevemente l'idea, ecco, come nasce questa idea e come si sviluppa. L'Università Telematica rappresenta sicuramente il futuro, la tecnologia al servizio della cultura. L'Ocse ci informa che in Italia e agli ultimi posti in Europa per numero di laureati. Evito di tediarvi sulle motivazioni, ma tra gli obiettivi primari della nostra Università vi è la centralità dello studente e le modalità di reclutamento dei docenti. Nonostante la mia età ho appena terminato un Master, pertanto posso garantirvi che le lezioni online sono facilmente fruibili a chiunque e rivedibili a piacere. Non vi è necessità di acquistare materiale didattico cartaceo. I test di verifica sono propedeutici agli esami. Un tutor è a disposizione degli studenti. Oltre ai tanti giovani, l'Università Telematica permette l'accesso allo studio anche a coloro che avrebbero oggettive difficoltà, per motivi di lavoro, per costi elevati, per età, per problematiche logistiche. Una platea infinita di potenziali studenti che ha un solo fine, ampliare la propria cultura finalizzandola ad una futura professione oppure, semplicemente, per il piacere di accrescere il proprio sapere. La sede d'esami della Pegas Università Telematica nella città di Rimini sarà un nuovo ed importante presidio di cultura al servizio della città e della Romagna. Grazie. E chiamerei a questo punto per un saluto il professor Caloggio Di Carlo e poi il saluto a seguire degli altri rappresentanti delle autorità, delle istituzioni, delle situazioni. Veramente abbiamo voluto dare la possibilità a tutti di poter conseguire un titolo di studio a chilometro zero, ormai no, sotto casa. Perché questo strumento ti dà la possibilità di studiare a casa quando vuoi e come vuoi. Quindi di realizzare quel sogno che prima, con tutti gli impegni di ognuno di noi, che non poteva mai realizzare. Invece questo strumento veramente eccezionale dà la possibilità a tutti di poter conseguire un titolo di studio alla pari degli altri. Siamo a Rimini, c'è anche l'altra università di cui dobbiamo avere rispetto e anche loro, anche di noi, perché noi non siamo concorrenti ma siamo sicuramente quella realtà che possiamo dare un contributo alla realizzazione di tanti altri progetti per i nostri giovani. Un augurio a tutti e grazie e alla prossima volta. Bene, prego e invito l'assessore dottor Mattia Morolli qui per il saluto istituzionale. Quello che è stato detto nell'intervento precedente ovvero di persone che, nonostante i ritmi di vita, gli impegni familiari, gli impegni lavorativi trovano il tempo, la voglia il tempo, la voglia di dare gli esami e arrivare a un titolo di studio è qualcosa di importantissimo specie nel momento in cui la formazione costante, ricercata fa la differenza. Guardate, ieri ero in un asilo a Spadarolo un quartiere qua di Rimini guardavo quei bambini che hanno sei anni e che tra vent'anni, quando stanno sul mercato del lavoro l'80% dei lavori che faranno saranno lavori che ancora non esistono. Bene, non pensiamo solamente a quei bambini pensiamo a tutta quella generazione che non ha avuto il tempo di laurearsi o di formarsi, anche con dei master dell'avanzamento didattico. Questi sono momenti importanti e anche un soggetto privato che affianca al pubblico è qualcosa di importante senza demonizzazioni, ma di compresenza se il futuro è nella rete abbiamo le certezze e le istruzioni per vivere in quel futuro. Grazie. Ringrazio l'assessore e chiamerei per un saluto il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Mario Conio Sicuramente questo è un momento importante per questa città attraverso PECO ho visto tanti colleghi raggiungere un sogno toccare con le mani quello che per loro poteva realizzarsi solo esclusivamente sui figli e invece in questa maniera ha consentito a tanti colleghi di poter migliorare se stessi e la qualità anche del lavoro che rendono beneficio della collettività. Grazie di nuovo e buon lavoro. Grazie colonnello. Chiamerei il cavaliere Adriano Gasparini viceconsole dei maestri del lavoro di Rimini per un breve saluto. Vorrei dire due parole anche su questa nuova sede universitaria perché per me è la benvenuta a Rimini perché darà la possibilità anche alla gente come hanno detto i miei precedenti del nostro territorio di accrescere la propria cultura migliorare il proprio status e quindi aprire nuove possibilità di carriere nel mondo del lavoro. Lo studio online è una possibilità moderna di studiare tramite computer possibilità che se fosse esistita negli anni 60 io l'avrei certamente utilizzata e sfruttata perché allora i periti periti industriali quali io sono dovevano superare un esame attitudinale per essere ammessi agli studi superiori esame che purtroppo io non ho superato e quindi mi ha costretto ad entrare subito nel mondo del lavoro. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Grazie al cavaliere Adriano Gasparini darei la parola alla cavaliere addolorata di Campi presidente dell'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia di Rimini che come dicevo ecco ha avuto la disavventura purtroppo insomma che porta ancora sulla sua pelle di essere la prima donna poliziotto ferita in un conflitto a fuoco non parliamo di un conflitto a fuoco qualsiasi se non sbaglio parliamo di un'azione criminale della Uno Bianca della famigelata Uno Bianca le lascio la parola. Bene io avevo 20 anni quando il mio sogno è stato purtroppo spezzato da questo gravissimo conflitto a fuoco dove per anni vicende che ormai qui a Rimini tutti conoscono ma anche a livello nazionale e quindi non ho potuto laurearmi e oggi con questa possibilità devo dire che nonostante le pallottole che ho ancora in corpo nonostante tutto tutto il calvario che ho passato nella mia vita questo sogno si può realizzare grazie a voi allora oggi sono particolarmente felice perché ho ricevuto questo invito che ringrazio per questa opportunità di capire di più che cosa che cos'è Pegaso primo secondaria cosa ringrazio i miei collaboratori Cavaliere Ruzier Cavaliere Stocco il Cavaliere Gori perché senza di loro l'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia a Rimini non ah benissimo a Rimini ci siamo ci siamo anche noi e poi come terza cosa voglio ringraziare il Cavaliere Presidente ah bene ok vedi e poi voglio ringraziare il Cavaliere Pari perché è un nostro socio e siccome che LUNCE a Rimini è sempre a servizio della città e della comunità abbiamo dato dimostrazione il nostro obiettivo è quello proprio di essere vicino alla gente quindi grazie Cavaliere Pari e un'altra cosa grazie a me che oggi è il mio compleanno grazie e buon lavoro grazie grazie io passerei direttamente a dare la parola alla nostra credita ospite onorevole Irene Pivetti è già presidente della Camera dei Deputati come tutti ricorderete prego onorevole a lei la parola e Pegaso fa la scommessa onerosa perché non è che siano gratis queste sedi la scommessa onerosa è di andare ad incontrare fisicamente le persone che studiano e che potrebbero bellissimo accontentarsi e che in qualche caso si devono pure accontentare dei test online allora avere moltiplicato in Italia delle sedi significa avere moltiplicato infinitamente le opportunità di incontro e quindi di arricchimento culturale reciproco reale ma anche se permettete visto che parliamo dell'Italia non parliamo della Papuasia con tutto rispetto per la Papuasia parliamo di un paese che ha mille sfumature venature culturali storiche identitarie identitarie questa è una delle parole che mi piace di più dopo libertà ha mille sfumature identitarie di raccogliere quello che una volta si chiamava genius loci diciamo così lo spirito dell'uovola capacità il contributo specifico la sede di Rimini non somiglierà alle sedi della Sicilia anche se riflette lo stesso progetto educativo e meno male e non somiglierà alla sede di Milano e meno male avrà ciascuna il modo di esprimere una vocazione territoriale che è bellissima Pegaso in più siccome qua piace strafare seppure scelto delle sedi di una bellezza fatevi un giro ve lo dico perché qui è spartana è produttiva questa sede ma ci sono delle sedi di palazzi storici impressionanti anche questa è una scelta di omaggio a quello straordinario patrimonio culturale di cui l'Italia è custode ma insomma anche nei muri quindi dice quello che qui potrà dire soprattutto con le persone e cioè c'è una virtù locale che merita di essere espresse che attraverso questa struttura sul territorio può esprimersi allora io trovo che questo sia un evento questo è un evento e quindi davvero io non posso che dirvi in estrema sintesi a questo punto che vi ringrazio sinceramente di cuore di avermi invitato a condividere con voi una giornata così importante la parola alla presidentessa Viviana Neri grazie buon pomeriggio a tutti non c'è sport solo come dice il mio presidente quello che porta medaglie d'oro d'argento o di bronzo c'è uno sport che va in qualche modo provato continuato mantenuto attivo perché è salute è benessere è coesione è relazione quello che prima l'onorevole Pivetti diceva comunque è umano riguarda la specie umana riguarda il nostro essere persone la relazione non la possiamo avere attraverso i mezzi telematici i mezzi telematici ci aiutano ma non sostituiscono le relazioni tra persone penso che questa sede possa interagire con tutte le sedi di alta formazione che ci sono nel nostro territorio e condivido il fatto che avere più voci più spazi per la formazione che è un diritto che la nostra Costituzione sancisce la Costituzione italiana parla di un sistema pubblico di istruzione che non vuol dire gestito dal pubblico vuol dire un concorso di pubblico e privato che sanno in qualche modo far crescere aperto quello che sanno in qualche modo far crescere la qualità della vita del nostro paese e noi ne abbiamo anche bisogno credo che sul nostro territorio avremo l'opportunità veramente di qualificare persone giovani e non per qualificare anche l'attività dello sport nella nostra realtà grazie io passerei a questo punto direttamente la parola al nostro presidente Danilo Irevolino per le sue considerazioni sul tema di oggi sport innovazione e start up grazie presidente a fianco a me avete sentito l'energico l'effervescente calogero di Carlo quando l'ho conosciuto era appartenente all'arma dei Carabinieri all'interno dell'arma non c'è un proprio un sindacato vero e proprio lui era appartenente al Cobar dei Carabinieri lo conobbe e dopo qualche anno siamo diventati grandi amici e oggi è il motore che ha reso possibile poi questo grande sviluppo di Pegaso sui territori e apriremo delle finestre di riflessione poi un grazie al dottor Pari all'avvocato Lauricella che stanno facendo un grande lavoro in questa città il futuro è nella rete perché è una rivoluzione senza permesso purtroppo non entrerò e non lo faccio mai in polemica con le infrastrutture legate alla politica ai territori ai lacci e laccioli della burocrazia tutto questo viene polverizzato all'interno della rete dove c'è una piena meritocrazia dove vale una competizione libera e dove chi è più bravo vince nel mondo cosa succede? succede che le università telematiche ormai raggiungono livelli di scritti incredibili immaginate che quando sentite parlare di una Stanford con 400.000 studenti circa 380.000 sono in modalità telematica quindi quasi il 90% è in modalità telematica in Italia invece appena le università telematiche il trend di crescita è incredibile stanno crescendo di più delle università tradizionali questo crea una conflittualità che non si arresta e forse non si arresterà mai quindi qual è la soluzione? una soluzione è che sicuramente questo ha migliorato di per sé il sistema io non sono dispiaciuto di questa competizione a volte corretta a volte non proprio corretta ma sicuramente ha aiutato anche le università tradizionali a ricordare che il centro dell'universo non è il docente ma è lo studente Google quando ha inventato le mappe sul cellulare ha fatto chiudere tutti i proprietari di TomTom e di cose similari quando sono nati i telefonini con le telecamere sono chiuse tutti i produttori delle macchinette standard e quindi ma l'innovazione è questa è competizione non possiamo pensare di avere degli innovatori e di tutelare quindi di avere un DNA mezzo rivoluzionario e mezzo reazionario e quindi oggi l'invito ai giovani ma anche ai meno giovani in questa giornata di festa e nel ringraziarvi ancora è quello di investire nelle start up credere nei propri sogni cercare nell'innovazione di creare con l'autoimpiego la propria azienda e il proprio futuro lavorativo di farlo e di farlo velocemente bisogna avere una grande idea ma anche essere ferocemente concreti per poterla realizzare e soprattutto di continuare a investire sulle proprie capacità il proprio potenziale e quindi sulla formazione che oggi ci sembra una cosa attuale ma già Sant'Agostino diceva ad discendum quod opus est a etas eri videri potest nessuna età è tarda per imparare ciò che è necessario grazie 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 al presidente Iervolino e adesso al senatore Antonio De Poli l'onore e l'onore di raccogliere questi stimolanti punti di riflessione e possibilmente di fare il punto sulle possibili risposte che possono venire dalla politica grazie senatore ma intanto mi fa veramente piacere essere qui con voi do chiaramente un saluto a tutti i relatori e al presidente Iervolino ma in modo particolare alla nuova inaugurazione all'inaugurazione di oggi diciamo della sede qui di Rimini ma credo che come diceva prima il presidente Iervolino il fare università nei territori significa far formazione recuperare quello che è il nostro DNA della nostra gente e delle nostre persone e credo che fra qualche anno anche le scuole superiori non voglio dire le inferiori ma le scuole superiori saranno così sarà tutto via telematica eccetera e sarà una cosa talmente normale che non ce ne accorgeremo più qualsiasi cosa che viene che viene innovato è qualcosa di nuovo quando viene qualcosa di nuovo c'è tutta la struttura che mette le mani in avanti che ferma aspettate cosa succede non va bene io credo che invece questo aspetto sia stato invece sorpassato stiamo correndo con l'università telematica con Pegasus e oggi aver aperto qui a Rimini una propria sede di questa università è una grande conquista del territorio una volta ci facevano le conquiste quando si aprivano per caso dei nuovi centri eccetera aprire un'università telematica nei territori significa dare la risposta a decine di migliaia di persone che possono finalmente avere in questo territorio una risposta chiara dalle persone che hanno qualche anno in più ai giovani che vogliono oggi formarsi e fare il loro percorso di formazione e di istruzione a chi vuole crescere nel proprio bagaglio di esperienza ma anche crescere all'interno del mondo lavorativo di dove sono io credo che questi siano gli aspetti che oggi Pegasus ci dà ed averla qui a Rimini con oggi credo che sia un grande successo grazie a voi grazie senatore Pegaso molto più di un'università grazie a tutti